I candidati, le liste e i programmi elettorali. Come si vota? Dove si vota? A queste e ad altre domande risponde a Rieti Life Magazine Speciale Lezioni. Tutte le informazioni più utili in vista delle prossime amministrative le trovi qui. Vuoi esserci? Contatta il nostro ufficio marketing per conoscere i dettagli. Rieti Life Magazine Speciale Lezioni. Il magazine che serviva. Un'idea Rieti Life. Acqua di Fonte Cottorella. Dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com Tieni d'occhio la tua vista. Per la salute dei tuoi occhi, affidati a Ottica Serafini. Big Mat è dir tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli tosti e abbigliamento. L'abito giusto per ogni occasione. Buonasera, ben trovati. Nona Corzia, ennesimo appuntamento per parlare di quello che più ci piace. L'atletica a 360 gradi, la studentesca, l'attività regionale e nazionale. Un annuncio che ci ha reso davvero felicissimi ieri, anzi l'altro ieri, lunedì scorso. Un appuntamento che arriverà e che porterà ancora di più Rieti al centro della scena dell'atletica nazionale e non solo. Presentiamo subito il nostro ospite e poi ci caliamo nei temi della puntata che sono davvero tantissimi. Ciao Alberto Milardi. Buonasera. Buonasera, Cristian. Il ditti della studentesca. Appuntamento consueto con Alberto che oggi ci aiuterà a presentare tantissime cose e a parlare di tantissime cose. Io però farei parlare il servizio del nostro DG di lunedì scorso perché annuncia la cosa forse più importante in questa stagione per Rieti e per l'atletica. La grande atletica è ancora di casa a Rieti con l'attesa per il ritorno stavolta in veste di campione olimpico di Marcel Jacobs. La federazione di atletica ha assegnato al Guido Baldi i tricolori assoluti del weekend del 25 e 26 giugno, vista l'indisponibilità dell'Olimpico di Roma. Jacobs, qualora venisse confermata la partecipazione, sulla pista ariatina cercherebbe il titolo italiano dei 100 metri, nella rassegna che ha onorato anche a livello indoor ad Ancona. Le caratteristiche della pista e le condizioni di Jacobs fanno preannunciare un gran tempo sul rettilino reatino a Rieti, così ci saranno tre eventi nazionali in un anno. È il terzo tricolore assoluto per il Guido Baldi e il 32esimo evento italiano in generale a casa della studentesca. La soluzione, ha detto il presidente Fidal Stefano Mei, rappresenterà il miglior viatico per la definizione delle squadre che affronteranno successivamente i campionati del mondo di Eugene e i campionati europei di Monaco. Dunque, i tricolori assoluti a Rieti, la decisione che è arrivata lunedì scorso, in realtà era un po' nell'aria, però è stata ufficializzata lunedì. Sì, Alberto, queste non sono cose che capitano a caso, nel senso che per essere scelti... Vero che c'è stato un disguido, mettiamola così, con l'Olimpico che era stato scelto a inizio, anzi prima ancora che iniziasse la stagione, però, insomma, non è che poi, ah vabbè, allora andiamo a Rieti, no, Rieti ha dei requisiti, ha delle opportunità, ha dei precedenti, ha comunque una storia con i campionati italiani, pur giovanili, importantissima. Sì, c'è anche un'organizzazione sicuramente all'altezza, quindi siamo strafelici di poter organizzare anche per la terza volta nella storia questi campionati italiani assoluti. La prima fu nel 2003, quindi quasi vent'anni fa, infatti ieri stavo riguardando le foto, insomma, eravamo tutti più giovani e sicuramente meno esperti, però fu anche quella una bella edizione. Quella più recente, ovvero 2016, nell'anno appunto della scomparsa di papà e quest'anno capiterà... Eh, pochi mesi dopo, quindi ci si preparava a quello. E quest'anno capiterà proprio più o meno negli stessi giorni, tra l'altro il 26 giugno sarebbe stato anche in questa stagione il compleanno di papà. Sicuramente Rieti è una scelta, speriamo sia stata la scelta giusta, però ci dimostreremo sicuramente all'altezza e siamo sempre stati pronti, anche in corso d'opera a entrare per l'organizzazione di diversi appuntamenti e quindi dimostreremo di essere all'altezza, ma è un evento talmente importante. Forse, se guardando un po' la storia, non ci sono dei campionati italiani assoluti così importanti. Eh, sono quelli dopo le Olimpiadi. Dopo le Olimpiadi, dopo le Olimpiadi. Speriamo vada tutto bene, però poi lui ha... È la marcia d'avvicinamento a Eugene, a Monaco e tutto quanto, io penso che non vorrà e non potrà mancare. A Rieti si corre forte, lui ha anche un conto in sospeso, diciamo. Eh sì, lo aspettiamo, certo è vero. Sfortunatamente l'anno scorso non riusci a correre, però penso che potrà trovare le condizioni... Peraltro è di ieri l'annuncio della partecipazione al Golden Gala in una bellissima sfida e anche quella sarà da vivere, ma di fatto 9 giugno al Golden Gala, poi fine giugno 25-26 ci sono i tricolori assoluti. Rieti poi, come avete sentito nel servizio, meglio nel lancio del TG condotto da Martina Grillotti, Rieti ospiterà altri due eventi nazionali che sono i tricolori junior individuali a metà luglio, mettiamo la prima metà di luglio. Due settimane dopo. Due settimane dopo, precisamente. Sono un giorno più lunghi, ma di fatto insomma quello è. Poi, a fine stagione ci sono i CDS allievi, quindi lo sforzo organizzativo per Rieti non è proprio la passeggiatina. Ecco, detto che questi campionati italiani dovranno essere organizzati in due mesi, praticamente. Due mesi e ci saranno anche delle migliorie da fare all'impianto, chiaramente dovremmo presentare proprio come un gioiellino. La ricettività, insomma, non sarà una passeggiata. Quello della ricettività sicuramente è un problema perché conosciamo insomma Rieti. Una questione più che un problema, ecco. Perché poi bisogna sempre... Però in qualche modo si farà e si torna a ospitare una manifestazione, questa è nazionale, però ai livelli dei meeting, dei tempi d'oro. Eh sì, assolutamente, assolutamente. Jacobs, abbiamo detto, ma forse Tamberi? Eh sì. Buona parte della 4%? Eh, quindi insomma ci sarà il top, per non parlare poi delle donne, immagino Luminosa Boiolo, immagino insomma tanti che possano veramente... Anche una passerella dei medagliati... E i medagliati della marcia. No, della marcia, esatto. Eh sì, sì, insomma sicuramente ci saranno Massimo Ostano e Antonella Palmisano, speriamo veramente di vederli. Ma immagini che ci sarà il biglietto da pagare come è successo all'Indoor di Ancona? Sicuramente. Ok, sì, anche per dare un po' di ordine. Beh, valorizza, secondo me valizza, eh sì, certo, tiene ordine. Cioè era stato tentato qualche anno fa, se non sbaglio a Torino, eccetera, sicuramente quest'anno andrà fatto, almeno... È una cifra simbolica, cioè è per ordine, per valorizzare quello che di fatto si fa. È stato fatto ad Ancona con una situazione che è stata al centro di dibattito, ha detto però è stato fatto ad Ancona, quindi... Non mi sembra niente di... Sono anche finiti nel giro di poche ore i biglietti, quindi... Non mi sembra niente di eclatante, Riedine ha la possibilità di poter ospitare molti più spettatori di Ancona, quindi sicuramente c'è parte tra crediti tecnici, insomma, è tutta un'altra storia. Aggiorneremo ovviamente sulla situazione assoluta, anche perché poi a ridosso capiremo chi partecipa e chi non partecipa, le iscrizioni sono aperte fino all'ultimo, tra minimi e varie storie, però comunque le iscrizioni sono aperte veramente fino... All'ultimo, allora, stravolgo la scaletta, abbiamo detto il meeting dei tempi d'oro. Alberto, pochi giorni fa, o meglio lunedì, è stata consegnata la cittadinanza onoraria a Sandro Giovannelli. La settimana prima era stata consegnata a papà e a Dino Morsani, in quel caso è benemerita per papà. Ceri, come l'hai visto Sandro, che ha voluto sotterrare l'ascia di guerra addirittura. L'ha detto più di una volta. No, mi ha fatto piacere essere presente nella rappresentanza appunto del mondo atletica, della studentesca. Insomma, è stato un bel gesto. Poi Sandro, Dino e papà, insomma, hanno rappresentato, possiamo dire, il 99% del mondo atletica dagli anni 60 ad oggi. Quindi, giusto riconoscimento, è stato anche emozionante, insomma, e anche emozionati, sia Morsani che Giovannelli erano emozionati, contenti. Eravate emozionati pure voi, eh? Sì, certo. Molto, molto bello. Era doveroso questo inciso anche per collegarci, visto abbiamo parlato del meeting, meeting che ci manca sempre tantissimo, che è arrivato all'edizione 45, con 8 record del mondo, di cui due vigenti ancora. Quindi, due vigenti, i record del mondo, quindi... I mille... Eh, Comen, sì... Daniel Comen, i 3.000 e Noangheni, i mille. Sì, sì, e i mille, quindi quelli sono vigenti. Due, undici. Eh, insomma, quindi, tutte bellissime, bellissime cose. Gli altri sono stati battuti, ma restano ovviamente nel nostro... Chissate quello dei 100 metri. Quello dei 100 metri potrebbe essere battuto dal campionato italiano. Magari, basterebbe 9,73. Qualcuno dice che vale 9,73, insomma, all'aperto. Giacobbs, io lo auguriamo veramente di batterlo. Allora, prima di fare il giro di Boa, anche con l'aiuto di Luciano Mancini, abbiamo tante immagini, perché questa è stata la settimana, è la settimana dei giochi studenteschi, ma lo era anche quella precedente. Le medie, le superiori, tanti atleti della studentesca, ma soprattutto l'importanza di rivedere le scuole, sfidarsi al Guido Baldi nell'atletica e quindi questo tipo di eventi. Rivedere questo tipo di eventi. Sì, quella più emozionante è sicuramente stata la due giorni riservata alla categoria cadetti, ovvero seconde e terze medie, perché abbiamo ricominciato con loro. Vedere tutta quella gente dopo tre edizioni saltate è stato veramente bello. Abbiamo, tra l'altro, tanti bei giovani che dalle gare studentesche magari si possono anche avvicinare al mondo dell'atletica. Seconde e terze medie hanno fatto la prova di qualificazione, invece ieri mattina c'è stata la finale studentesca per quanto riguarda, come le immagini che stiamo mandando, la finale studentesca del... Vedo un volum, vedo un volum, in meno del volum. E' davanti a Dominic e Mattia che qua salta a 2,05 ma poi è salito fino a 2,10 e ha fatto addirittura provato il tentativo a 2,20. Ma ci chiedevamo in redazione, arrivasse un record qui, finisce nel... Tutto regolare. Tutto regolare. Sì, sì, sì. Sì, 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 giudici, medico, tutto, diciamo, è omologato tutto quanto. Ieri mattina c'è stata una grande prova del liceo scientifico Iucci con le allieve che ha vinto con sei punti, quindi se non sbaglio penso abbia vinto tutte le gare il programma. Quindi è una squadra assolutamente di livello che il 19 sicuramente si giocherà al titolo regionale e quest'anno è importante perché si tornerà anche con la finale nazionale che è in programma a Pescara a inizio giugno. E invece quella regionale ai Marmi avevamo detto? Quella regionale a Roma sinceramente non ricordo. Però sì... Vabbè, torna comunque appuntamento che è sempre stato sentito per l'Atrea di Cariatina e in generale per quella laziale. Oggi la scheggia, immagino tantissimi bambini, tantissimi ragazzi, colore meraviglioso. La scheggia è l'appuntamento quello clou della stagione studentesca, almeno per quanto riguarda gli elementari, quindi è stata una giornata lunga. Poi dai risultati di oggi estrapoleremo gli otto finalisti e sarebbe carino, probabilmente non con tutti, però riproporre una finale in occasione di campionati assoluti. Sarebbe bello. Come lo è stato fatto nel 2016. Eh sì, lo ricordo. E in quella finale, per esempio, nel 2016 vinse Mattia Furlani. Ci siamo invece con il palio dei comuni al Golgendala? Ci siamo. Come siamo organizzati in quel caso? Staffetta 12 per 200, con sei ragazzi, sei ragazze, a partire dal 2008 al 2010. Quindi due ragazzi e due ragazze del 2009. Beh, sarà anche per loro... Bello, emocionante, all'Olimpico. Corre all'Olimpico in una delle tappe della Diamond League, quindi bello. Bello che finalmente il Golden Gala, oltre a tornare nella canonica location, data, e tutto quanto torni anche nell'assetto canonico, cioè la festa dei giovani. non si è parlato di Silver Gala, forse non ci sarà, però comunque già che torni il palio dei comuni è veramente una cosa... Silver Gala lo fanno perché sicuramente per provare l'attrezzatura. Eh sì, sì. Però poi non magari... Beh, però per l'atleta è sempre comunque correre all'Olimpico. È sempre una cosa molto molto bella. Per chiudere con gli studenti ho citato le allievi dello Yucci, e al maschile hanno vinto gli allievi del Ducati di Savoia, quindi con 12 punti, uno avanti rispetto all'Olimpico, che ha sfiorato la doppietta. Però è stata una bella sfida decisa con la staffetta 4%. Yucci, immagino c'entri Raffaella, Zimiatana... Eh, se le ragazze dello Yucci erano tutte tesserate. Quindi da Virginia, Lavina Capazzo... Eh, poi volevo dire le sorelle Capazzo. Gian Girolami, Giorgia Marcaccio, Benedetta Zanotti, che è del classico, ma quest'anno gariggiamo il classico di Yucci insieme. Sì, insieme, visto che è un unico... È sbagliato dire Yucci, forse? No, è sbagliato dire... Cientifico, classico... Vabbè... Yucci Varrone è un'unica scuola, quindi, insomma, poi faranno le loro giuste divisioni, ma, insomma, l'Istituto è quello. Andiamo in pubblicità, siamo al giro di Bo, poi guardiamo quello che è successo nell'ultimo weekend e andiamo a vedere che cosa succederà in quello del 7 e 8 maggio. I candidati, le liste e i programmi elettorali. Come si vota? Dove si vota? A queste e ad altre domande risponde a Rieti Life Magazine Speciale Elezioni. Tutte le informazioni più utili in vista delle prossime amministrative le trovi qui. Vuoi esserci? Contatta il nostro ufficio marketing per conoscere i dettagli. Rieti Life Magazine Speciale Elezioni, il magazine che serviva. Un'idea Rieti Life. Acqua di Fonte Cottorella, dalla fonte, direttamente a casa tua. Acquistala su www.cottorella.com Tieni d'occhio la tua vista. Per la salute dei tuoi occhi, affidati a Ottica Serafini. Big Mat è il tutto. Dal 1981, tutto per costruire e ristrutturare casa. Eleganza, qualità e cura dei dettagli. Per l'uomo, la donna e per la cerimonia. Scegli tosti e abbigliamento. L'abito giusto per ogni occasione. Bentornati in diretta a Nona Corsia, ospite Alberto Milardi, direttore tecnico della studentesca. Abbiamo, ovviamente, celebrato il risultato raggiunto dal Guido Baldi, in questo caso, e cioè l'ottenimento dei tricolori assoluti che ci saranno il 25 e 26 giugno. Abbiamo parlato dei giochi studenteschi che sono tornati alla grandissima, alle medie, alle superiori, la scheggia. Tutto meraviglioso. Abbiamo parlato della cittadinanza onoraria a Sandro Giovannelli. Adesso ci caliamo nei risultati e nello sport vero e proprio nell'attività. Allora, che cosa è successo nell'ultimo fine settimana? Ovviamente l'appuntamento centrale sono stati i CDS, fase regionale cadetti al Rosi. la finale ci sarà a fine maggio. Come è andata? È andata bene, diciamo, è il primo impatto con l'attività regionale, quindi l'esordio l'avevamo fatto a Rieti con Viterbo. Sì, questa è un'attività provinciale, interprovinciale. c'è molto da migliorare, siamo in tempo per preparare bene le squadre in vista appunto della finale regionale del 28-29. Da segnalare sicuramente la vittoria per esempio di Viola Gian Girolami nel Giavellotto che ha superato per la prima volta i 40 metri con l'attrezzo da 400 grammi. Dominic Mulumba che ha vinto la gara dei 2000, gara forse proprio di testa, comunque è stato nel gruppo davanti però portandosi dietro qualche qualche altro concorrente poi nei 200 metri finali ha preso il largo e c'è da segnalare anche il minimo per i campionati italiani ottenuto da Diego Mancini nei 300 ostacoli che insomma corre sotto a 42 secondi al primo anno di categoria non è facile nel 2008 sicuramente non è cosa di tutti i giorni non male poi adesso aspettiamo le classifiche che poi si aggiorneranno fino al 21 di maggio però non ci sono problemi per qualificarci con le due squadre cadetti cadette e come al solito ci dovremmo giocare il podio parliamo di podio poi si aspira sempre al gradino più alto e dallo scorso weekend buone notizie anche dalla marcia da Alberobello che c'era la seconda terza prova nazionale del campionato hanno corso tra i trulli si praticamente ho visto le foto bello la location molto bene Andrea Di Carlo è arrivato terzo nella gara allievi insomma si conferma proprio tra i top marciatori under 18 nell'anno di Gerusalemme quindi fino all'ultimo l'allievo di Sandro Bellucci giocherà le sue carte per vestire la maglia azzurra hanno corso vicino a Stano di fatto che è di casa anche se si allena a Roma però Pugliese Pugliese Doc come tra l'altro Antonella Palmisano che non c'era però terzo posto anche per Eleonora Massimi lei cadetta questo è il primo anno in gara con la maglia della studentesca e poi in bella evidenza anche il quarto posto di Matteo Piervincenzi nella gara junior di 20 km e di Alessandra Cosi quinta nella gara allieve io ho sempre una grande domanda per Alberto Milardi come fa a ricordare tutti i risultati nonostante li scriva non li ricordo non li ricorderò mai perché io non devo sapere poi li devo trascrivere comunicare perché te li chiedono esatto è sempre ammirevole questa cosa poi devo venire a una corsia esatto e qualcuno se li deve ricordare se no dobbiamo andarli a cercare ogni volta credo per il fine settimana ci lasciamo alle spalle più o meno abbiamo detto tutto credo insomma a parte qualche cosina in giro l'attività è talmente tanto vasta e ampia che tanti atleti vanno anche fuori regione in Umbria nelle Marche in Abruzzo insomma ci sono sempre varie cose ma il centro delle cose è questa qui eccola viene in mente qualcosa Sebastiano Bianchetti grande Sebastiano Palmanova ha lanciato il 19-52 mi devi dire se torna a Rieti oppure no ancora no però la notizia degli assoluti ha fatto molto piacere poi lui ha detto il 26 giugno ha molto piacere a gareggiare in quella data e guarda ha avuto una settimana un po' così con qualche problemino però penso che i 20 metri siano alla portata alle porte proprio no alla portata sì esatto e poi se dovesse sbloccarsi magari poi è anche più facile continuare a crescere secondo me l'aria di casa gli fa bene sì anche secondo me vabbè poi vediamo vabbè anche perché poi quello dei lanci anche grazie ai giochi studenteschi è un settore come tutti gli altri è infermento perché da appunto dalle gare studentesche vengono fuori sempre belle cose sì l'avevamo detto anche in passato in questi due anni magari il lanciatore è meno facile che si possa avvicinare all'atletica no perché dici vado a fare atletica corro e invece già chi vince il peso agli studenteschi è facile poi indirizzarlo verso quella disciplina allora sarà un fine settimana ricco di cose ma già il cuore della settimana tra finale dei giochi studenteschi ma non solo a Riedi stanno veramente in tutto in tutto il Lazio in tutte le altre province oggi c'è stato il Galà dei Marmi quindi un altro appuntamento insomma che ha visto anche qualche atleta della studentesca impegnato però diciamo che tra il 7 e l'8 ci sono diverse cosine importanti il CDS su pista allievi allieve con la prova regionale ovviamente più gare extra senior ci sono delle cose master oltre a molte cose di strada nel senso proprio di corsa di corsa su strada così due flash Alberto Riedi iniziamo proprio con questo weekend fino a tutto maggio con degli appuntamenti di livello regionale il CDS allievi naturalmente la studentesca dà sempre priorità a questo questo campionato soprattutto quest'anno che avremo le finali in in casa a settembre ci sono due belle squadre soprattutto quella maschile che riduce da due scudetti negli anni precedenti 2021 e 2020 le donne è una squadra giovane però sicuramente saprà farsi valere l'obiettivo per entrambi è già confermare il prima possibile la finale nazionale poi migliorare con i punteggi è interessante il programma è bello fitto anche perché praticamente tutte le corse sono open quindi anche la categoria assoluti ci sono già molte richieste di gente che vuole venire a correre a rieti l'unica incognita speriamo il meteo che ad oggi non promette benissimo però speriamo poi poi vedremo va bene va bene poi ci sono un po' di appuntamenti in giro e poi c'è anche domani e dopodomani 5-6 con le qualificazioni delle prime medie sempre di giochi studenti ok quindi altre cose da seguire con poi tutte le varie finali di cui vi daremo ovviamente conto ma l'importante è che siano tornati a gareggiare gli studenti a 360 gradi abbiamo dimenticato qualcosa? no no va bene cioè c'è modo e maniera per raccontare l'atletica su Rieti Life grazie Alberto Milardi buon lavoro insomma seguiremo i ragazzi prossimo appuntamento primo appuntamento tricolore credo fine maggio veramente cominciano ad esserci cose tricolore forse inizio giugno inizio giugno eh sì sì multiple e poi arriveremo chiaramente ai tricolori tricolori assoluti insomma questa è stata la puntata di annuncio veramente per nona corsia di questi campionari italiani che ci rendono davvero davvero orgogliosi oltre che dovremmo prepararci al meglio anche perché questo è un piccolo inciso di cronaca il 26 giugno significherebbe anche eventuale ballottaggio delle elezioni comunali eventuali non sappiamo potrebbe anche finire al primo turno e in realtà anche eventuale processione di Sant'Antonio però c'è un però esatto il ballottaggio diciamo che esclude la processione di Sant'Antonio però ci sono due grandi eventi in quel fine settimana sicuramente quindi ci potrebbe essere ballottaggio e campionati italiani o campionati italiani e Sant'Antonio ecco questa è la segnatevi questa giornata perché è bella bella piena per noi sarà di tanto tanto lavoro però è il bello delle cose finalmente c'è un po' di c'è un po' di movimento grazie Alberto Milardi di nuovo grazie a voi per averci seguito grazie alla regia di Luciano Mancini ai colleghi e alle colleghe della newsroom che contribuiscono a questa trasmissione noi ci vediamo mercoledì prossimo ovviamente tutte le news sull'atletica e in generale su Rieti e Provincia le trovate su rietilife.com e sui nostri social sempre aggiornati continuate a seguire il nostro palinsesto e la nostra informazione buona serata viva l'atletica i candidati le liste e i programmi elettorali come si vota dove si vota a queste e ad altre domande risponde Rieti Life Magazine speciale elezioni tutte le informazioni più utili in vista delle prossime amministrative le trovi qui vuoi esserci? contatta il nostro ufficio marketing per conoscere i dettagli Rieti Life Magazine speciale elezioni il magazine che serviva un'idea Rieti Life Acqua di Fonte Cottorella dalla fonte direttamente a casa tua acquistala su www.cottorella.com Tieni d'occhio la tua vista per la salute dei tuoi occhi affidati a Ottica Serafini Big Mat ed il tutto dal 1981 tutto per costruire e ristrutturare casa eleganza qualità e cura dei dettagli per l'uomo la donna e per la cerimonia scegli tosti e abbigliamento l'abito giusto per ogni occasione la donna bianca la donna a la donna l'abito e l'abito la donna che sa